Attenzione c'è la ripartenza, Butera nella sua caratteristica, il lancio, la palla non viene agganciata, un rimpallo, Romano anticipato ed è gol! Gazzella piccoletta, attenzione, la palla su Asciavalla, ancora Asciavalla, la controlla perfettamente, cerca la conclusione e fa un gol, devo dire, bellissimo! Fa un gol, bellissimo! Dal momento in cui ha cercato il passaggio, ha dettato la traiettoria, l'ha controllato molto bene, stop la frenata, poi la controlla a rientrare e poi di destro nell'angolo in cui Romano non può far nulla, gesto tecnico da 9! Attenzione, Asciavalla si porta a casa il pallone, Asciavalla si porta a casa il pallone, Asciavalla si porta a casa il pallone, tripletta!